Come una Porsche fiammante anche il Chieti corre verso il ritorno in Serie C. Questa mattina la società Neroverde ha presentato la nuova partnership con il gruppo PvP che gestisce il marchio Porsche nel centro Italia. Una sinergia economica che supporterà la società Neroverde nella prossima stagione. Società Neroverde che intende tornare ad essere un punto di riferimento a livello sportivo e non solo, essere il volano per il rilancio del proprio territorio. Ecco perché questa mattina l'annuncio da parte del patron Ettore Serra e di tutta la società del Chieti Calcio di questo nuovo partner commerciale importante. Alla conferenza stampa hanno preso parte oltre al patron Serra il presidente onorario Giustino Angeloni, il direttore generale di PvP, il dottor Piubeni, ma anche il direttore generale del Chieti Demetrio Sartiano e il presidente Cristian Poglio che ascoltiamo ai nostri microfoni. Le società di calcio sono delle aziende per cui bisogna portare dei parametri importanti. e quindi stiamo lavorando sul marketing, sul merchandising, su tutto quello che ci può aiutare per fare un calcio molto professionale, questo senz'altro. Chieti, grandi potenzialità, grandi trascorsi, siete sempre più determinati a riportare questa piazza ai fasti di un tempo? Diamo conferma già l'anno scorso, noi arriviamo ad agosto e abbiamo decantato il nostro progetto, lo stiamo portando avanti. In primis io e il mio collaboratore stretto, se non ci fosse un progetto serio non saremmo qua, perché tutti e due abbiamo la fortuna di essere nonni e passeremmo il tempo con i figli e i nipotini, quindi ci crediamo enormemente in questo progetto. Il dottor Piubeni, direttore generale di PvP, il nuovo partner commerciale del Chieti Calcio, un binomio che ci si augura diventi da subito vincente? Assolutamente, speriamo, diciamo che per noi l'idea di essere vincenti va al di là del campo di gioco, che ovviamente è una componente fondamentale, ma insieme faremo sicuramente dei progetti molto importanti che spero abbiano un senso anche per il territorio, quindi la partnership nasce proprio per dare un senso anche al territorio e permettere al Chieti di avere un partner affidabile e noi creare con il Chieti qualcosa di importante. Abbiamo fatto un tradunione tra la parte tecnica con il direttore generale Demetrio Sartiano, il patron Serra, il sottoscritto insieme all'altro presidente onorario che è il dottor Angeloni, un gruppo che sta dando almeno prima dell'inizio del campionato segnali tangibili di costruzione e di lungimiranza per quanto riguarda non soltanto la stagione in corso, vedasi ad esempio l'acquisto del Pullman prima della fine del precedente campionato, la ristrutturazione dei locali dello stadio e speriamo a breve anche di avere altre strutture logistiche idonee per allenamenti e soprattutto anche il vitto e l'alloggio dei giocatori perché molti vengono da fuori. La partnership con la PVP per noi è un motivo di grande orgoglio perché è la prima volta che dei concessionari Porsche, perché qui parliamo di tre della Toscana e poi Abruzzo e Molise sposano una realtà commerciale come una società dilettantistica di serie D sperando che questo possa essere il presupposto per salire di rango e questa cosa per noi è fondamentale perché avere un partner importante ti aiuta anche a far capire ad altre realtà commerciali che le intenzioni sono serie e la società è forte. Una campagna acquisti altisonante, ardemagni su tutti, ci sarà una ciliegina sulla torta o l'organico è completo? No, l'organico che ha fatto il direttore Sartiano è più che completo attualmente se il direttore valuterà ci saranno delle pedine, probabilmente forse qualche under ma far mettere qualche pedine in più sugli over veramente metterebbe forse in esubero eccessivo la rosa.